ho beccato al volo il mister perché se ne voleva andare Enrico Mognaga che bella cravattina grazie molto sentire mister quanti sono rimasti nel free roll 115 giocatori su 129 partiti siamo arrivati al sesto livello tutto procede mai bene come questa volta tutto perfetto non possiamo lamentarci ho visto che sono tutti contenti io pure un po stanco ma contento stanco ma contento lo streaming continuo amici in diretta ci potete seguire andate su www.snay.it o su www.lagazzettadellosport.it mica mosche zanzare Enrico wow wow micho micho esatto sono stati importanti no no guardate che mi hanno detto che è anche bello vedere subito le fasi del torneo perché sono passati 20 minuti è molto bello guardatelo perché vi divertite e poi insomma vedete anche noi oltre che su youtube anche lì secondo me ci tirano i pomodori come usciamo dal casino paura di sì a dopo grazie grazie